Oggi Gesù ci ricorda che la frase vieni e seguimi è un dono d'amore, è una chiamata d'amore. Non è dare seguito ad una richiesta, non è una domanda per aderire ad un'associazione, ma è una chiamata d'amore. A questa si risponde soltanto quando si è liberi di rispondere all'amore, quando cioè l'amore diventa più importante di tutto ciò che abbiamo. Il giovane ricco aveva molti beni a cui teneva, le ricchezze valevano per lui più della risposta d'amore. Quando le cose, gli affari, gli interessi, il lavoro valgono più dell'amore, significa che non stiamo seguendo Gesù ma noi stessi. Grazie a tutti.